no no edita luca dai partite viva la vai 1 2 3 ok povera la rifa pronta io vai 1 2 3 ok vai giù e fu si ruppe un dito vai farlo ancora vai un po' più finistra vado 1 2 va bene però la volevo fare nea fa un saluto ciao bambini ecco la doppia questo è bello non l'ho vista fighissima fai vedere picciateale va bene per tutte tutte e tre bellissime secondo me una storyboard di cosa ne pensi niente però va tutto bene non l'ho vista Grazie a tutti.